Grazie ad un accordo di collaborazione tra l'ASL Salerno e la Fondazione Pascale, dal 1 ottobre prossimo all'ospedale di Sapri sarà attivata l'unità di skin cancer per la cura del melanoma. Si tratta di un'iniziativa fortemente voluta dal nuovo direttore generale dell'ASL, l'ingegnere Gennaro Sosto, promossa in collaborazione con la Fondazione Pascale per la realizzazione di un programma ricco di attività che forniranno assistenza a pazientinare fortemente disagiate attraverso servizi di telemedicina, prime visite dermatologiche e diagnosi precoci. La Fondazione Pascale ha l'obiettivo di implementare con interventi tempestivi di diagnosi precoce, anche nell'attesa dell'implementazione e della contestualizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali aziendali, la presa in carico dei pazienti in un'area decentrata del territorio aziendale con lo scopo di assicurare la gestione della patologia oncologica nel principio della multidisciplinarietà, della continuità e della sicurezza delle cure attraverso il sistema di refertazione per immagini all'avanguardia. Con l'apertura di una unità Skin Cancer, il Presidio ospedaliero di Sapri, dichiarano dall'ospedale, diventa parte integrante della rete oncologica campana per offrire ai cittadini nel territorio più a sud della provincia di Salerno un'assistenza sempre più qualificata e garantire processi di presa in carico nell'ambito di un sistema regionale efficiente e allineato ad alti standard qualitativi in ambito diagnostico-assistenziale.